Andiamo, andiamo! Pista! Pista! Le 14 e 15, amici miei! Pista! Bravo, Luca! Capono! Basta! Questo programma è offerto da... Mi chiamo Marco Mazzoli, ho 43 anni. Professione... Colpi di scena. Immagini mozza fan. Ricordi da ricordare. Un film con Marco Mazzoli e Marco Mazzoli. Eh sì! E poi con Marco Mazzoli. E la grande partecipazione di Marco Mazzoli. Bravo! Basta! On air a Marco al cinema. Marco! Mazzoli al cinema! Mazzoli! Allora, deturpati da Facebook, come state? Bene, tutto a posto. Benissimo. Ora voglio fare una comunicazione a tutti coloro che seguono la pagina di Facebook dello Zoo di Cento Ciove. Bravo! Aia! Da oggi le regole cambiano. Bravo! Perché? Perché è la nostra pagina. Eh. E quindi possiamo decidere quando ci pare e piace. Giusto. Le regole sono... Se zizzagni, sei eliminato e bloccato. Bravo! Se insulti, sei eliminato e bloccato. Bravo! Giusto! Se tenti di recuperare con messaggi privati, non sarai cagato. Sarai cagato. Sarai cagato. Se parli male di uno dei componenti del programma, sei eliminato e bloccato. Bravo! Se invece sei una bella fica, dubito, perché la maggior parte sono dei polli con rossetto, sei trattata come una regina. Bravo! Avete capito? Sì, ma no. Perché non abbiamo voglia di rotture di maroni. Bravo! Detto questo, possiamo partire con la sigla. Cordiali saluti, Petro. Bravo! Bravo, Petro. Bravo, bravo! Laconico! Lo sento nascere, lo sento crescere, lo sento crescere, e combi un brivido che, dei faggiani, non puoi comprenderle, rompe le regole, oltre ogni limite, ma non ti molla mai, non ti non ti molla mai, è troppo tardi ormai, non ti molla mai, non ti molla mai, e fa parte di te. Be ready. Welcome to the zoo, zoo. 105 zoo. 105 The Zoo. Werolli on Siamo 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 Siamo